salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay di minecraft della serie viaggiatori qui con me c'è per la prima volta ragazzi per la prima volta ha fatto in tempo a rispondere una medaglia a questo uomo allora ragazzi come vedete ci troviamo di nuovo nei viaggiatori purtroppo ovviamente purtroppo mi trovo anche con lui purtroppo allora in questo episodio vorrei fare dei valerio per mettere nei recinti andiamo prima a dormire e ormai sto nel mio recinto ho detto che sono un animale sto nel mio recinto io dormo qua dai vieni va bene chiudiamo qui e ah ragazzi volevo lasciarvi una bella notizia come avete visto nell'ultimo episodio e anche in questo non faremo tagli perché io ho un hard disk molto piccolo cioè del 232 gigabyte e visto che ho centinaia di giochi non è vero 32 non posso fare video molto lunghi tipo di 50 minuti perché si prende tutto il fottuto spazio mi sono rimasti 30 gigabyte quindi non mi dispiace che non posso fare tagli e sistemare meglio gli episodi però il 24 aprile visto che è il mio compleanno mi regalano un bel hard disk da 1 terabyte quindi da 25 aprile quando registrerò cioè il 26 domenica il gameplay verranno meglio a meno la maggior parte dei videogiochi hanno bisogno assolutamente dettagli quindi se ci sono non ci saranno più problemi che il gameplay verranno troppo lunghi tipo le serie enormi di 30 episodi anche se non sta succedendo questa cosa però voglio evitare più che altro quindi appena riesco ad avere un hard disk da 1 terabyte io continuerò la serie di minecraft registrando tipo un'ora e poi taglierò portando il video a 12 minuti taglieremo come quest'albero va bene comunque mi dispiace che questa cosa questi ultimi episodi stanno venendo un po' noiosi ma dovete capire che comunque l'hard disk mi dà il problema che non c'è fottuto spazio vabbè questa è per la serie di minecraft per le altre vi spiegherò tua madre è una troia tua madre due volte se muori non è coppa mia non mi prenderai dai comunque andiamo a cercare i valeri allora ragazzi lo scorso episodio non ho messo gli obiettivi perché mi scocciavo infatti ho detto mettevo gli obiettivi ma non li ho messi non vi preoccupate in questo episodio vi farò gli obiettivi che abbiamo completati e quello che vogliamo completare ragazzi comunque tralasciando questo andiamo a prendere animali che dobbiamo dire dobbiamo completare questa cosa cioè avere ogni tipo di animali ovvero mucche, pecore, polli, maiali poi non lo so che animali ci sono poi vedremo per adesso ho già trovato polli che bello prendiamo i semini ho trovato una tutta questo è mio ma tu non dovevi cercare gli animali ciao pollo vieni ok aspetta ho trovato ferro, 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 ferro questa è una cosa bella perché guarda come mi seguono i polli venite venite il cucciolo lì lo smetti tua madre è una cessa al pollo allora andiamo pollo aspetta dove cazzo che è successo va la roba da quando lo senti qua no è il trasso di babbo oh che divertire il trasso di babbo pollo di merda non ti fai girare su te stesso rimuovi? allora vieni vieni oh buca bravo pollo la buca, il gatto, il cane, il papa allora vediamo c'è un uova anche addosso vediamo se lo riusciamo ad aprire assolutamente non è riuscito un cazzo ok abbiamo catturato il primo pollo ragazzi dobbiamo avere almeno due animali simili quindi andiamo a prendere l'altro pollo di merda dove sei andato? dove cazzo eh? l'avevo visto però non mi ricordo dove allora cerchiamolo, cerchiamolo bene cerchiamolo dove è sto figlio di puttana ok vieni pollino vieni nello scorso episodio ho regolato malissimo l'audio perché non mi sono accorto che la tua voce era bassissima a differenza della mia io ho regolato male la mia voce è cosa che se ce n'è meglio è eh ok ma in questo episodio cattureremo solo animali secondo me la lentezza degli animali adesso vieni qua a pollo di merda non venire qua vicino perché sennò il pollo non viene devi fare un altro recinto idiota no vabbè buttiamo tutti gli animali in una zona no ma gli animali devono essere scuro quindi aspetta io mi allontano se no sei con me la mucca se ne sta andando vieni 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 che bello vieni questa scena è stupenda guardate da vicino lui che parla con una mucca immaginatevi la scena entra si bello entra devo preoccuparmi dopo di questo ti devo tenere lontano dagli animali tieni i polli polli di merda polli di merda ok accoppiatevi figli di puttana e datemi carne e cibo ok per adesso abbiamo completato primo pezzetto di questo piccolo obiettivo ora dobbiamo trovare altri figli di puttana oggi mi sento molto volgare vai a cagare madonna ragazzi stai notando anche voi tu sei gay? eh questo l'abbiamo notato da molto cioè non c'è bisogno comunque di ricordarlo alle persone perché sappiamo bene che tu sei gay il problema è un altro è che il mondo è triste quando tu non ci sei perché di alvis più ce n'è meglio è il tuo logo? la tua canzone? che cazzo è? slogan si dice se no mi sbaglio allora fammi vedere oggetti belli mi prendo tutto ok qua entra lui mentre cattura gli animali ragazzi vi faccio ammirare un po' il mod mmm bellissimo guardate c'è il mondo tagliato lì allora se non mi sbaglio io ho messo il cancio basso se non ricordo male perché la mia scheda video non è chissà che però vabbè riesce a reggere abbastanza bene i videogiochi abbiamo capito di farlo giudere di merda tua madre è di merda ciao sarellina perdonami per quello che ti ho ah sono caduto ah allora facciamo i semini mettiamo i semini facciamo i semini ho trovato le pecore si tutti i semini ah ah provi salva grano mmm oh yes i semini i semini power no no vanno trombate si il popolamento più ti ascolto più mi più rimango sconvolto dov'è che cazzo di grano? ce l'ho io duro ma serve più grano c'è un po' di grano in sta cazzo di cosa passimi un grano passimi però ok posiamo questo qui ok andiamo ragazzi c'è un dolore alle gambe perché sei stato troppo a pegolo per questo no comunque allora mo abbiamo preso gli animali tu sei un animale ma sapete che mi vorrei oggi mi sento cattivo è troppo crudele oh ci sono anche i maiali che bello i maiali ci vogliono le carote ok vieni adesso dietro la casa c'è ci sei tu nudo no allora dietro lo siete alla piantaggione c'è c'è un bello un bello spezzetto libero io potremmo fare anche una c'è uno spezzetto libero c'è dalla nostra casa facciamo un piccolo sentiero no sentiero diciamo un passaggio sotterraneo dove noi potremmo salire e da sotto diciamo entriamo nella nella torre di guardia intanto ho catturato la pegola vado a prendere la faccio da dentro cioè ci dici vale la faccio da dentro casa come vuoi tu vabbè la faccio da dentro a me serve solo cibo devo catturare tutti gli animali sono un bravo domesticatore allora cosa che dai cibo vengono tutti da dentro ti amano gli animali ah quindi ho catturato una pegola ora ho catturato la maiale e credo che abbiamo completato questo obiettivo solo che ci manca una pegola c'è il ferro sotto qua bene che bello noi arranziamo un po' tutto stiamo cercando di arranzare le costruzioni ok venite maialini corriete guarda e poi dopo faccio le cose migliori assai migliori assai ah beh ma questo qua non è che è un obiettivo chissà cosa devi fare per gli animali basta che li sbatti nel recinto tanto sono bestiame sono cibo per noi e basta questi sono gli animali madonna proprio animalista li voglio proprio bene gli animali eh? devono essere rispettati facciamo un po' di censo per ogni animali dove vai mucca di merda tua madre è una puttana cristo aaaaa ci metterò 1 e 1 ok bravi ora dobbiamo catturare il pollo di nuovo non c'è ma come cazzo salgo madonna cribio 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 ok non è uscito un cazzo nell'uovo madonna maiale vieni qua eh stavamo pensando anche se di fare di suicidarti che bello abbiamo finito l'obiettivo abbiamo catturato tutti gli animali sui server pubblici te lo ascolti lo ascolti io non voglio non so se farò altre video su minecraft al massimo farò delle mod ma niente di più sinceramente minecraft ci gioco da troppo tempo ormai ho imparato tutto a memoria diciamo mi è diventato un po' noioso così come si vanno le scale che ne so dove cazzo stai andando ti vedo la sotto qua che cazzo è tutto a buio qua non vedo niente come si vanno le scale ma io non vedo niente aspetta ti ho messo la nuova non mi ricordo aspetta ma te le faccio si mi ricordo adesso dovrei saperle fare credo se non mi sbaglio allora proviamo un attimo si così allora ho fatto ho fatto si ok mi ricordavo bene è vuoto in che senso so vuoto sto dentro la sua testa è vuoto vedi dico io che sei stupido è una cerdata è vuoto madonna che battutone hai fatto la gente sta piangendo per la tua battuta sei vuoto i tuoi occhi è così tagli davanti al cazzo allora dove le devo mettere prima cosa allora dammela a me ecco bravo dove si mettono le scale con le per culo idiota dicevo anche poi il punto volevi mettere però aspetta no ah lo fa sempre sta cosa è un bug bug del cazzo e te le mette all'improvviso in altri punti ah li hai ok a posto come si vanno le botole? le botole ehm dovrebbero mettersi se non mi sbaglio sei pezzi di legno lavorati per esempio tre sopra e tre sotto comunque dai fermiamoci qui che siamo arrivati a 13 minuti bene ragazzi come avete visto abbiamo completato un altro obiettivo ovvero catturare gli animali ci manca una pecora però vabbè poi la prendiamo mentre non stiamo registrando ci mettiamo poco ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio visto che il prossimo episodio sarà registrato dopo il mio compleanno e non so se il 26 registrerò qualcosa perchè comunque devo reinstallare tutti i programmi Camtasia eccetera tutta la roba che ho e 31 giochi per la connessione che ho scarsa è molto scarsa dovrei metterci comunque un po' di tempo e non so se riesco a finire tutto per registrare vabbè casomai ci vediamo poi la settimana prossima ciao a tutti ragazzi qui da Yamamoto e da Armis ci vediamo nel prossimo episodio con tanto di cazzeggio ciao